Esiste un problema che ai maschi preoccupa tanto e meno alle donne ma anche alle donne e sono le spalle. Ci sono tante volte che quando uno va in palestra e personalmente mi è capitato in diversi periodi della mia vita che quando ci alleniamo in palestra e vogliamo sviluppare bene le spalle, il muscolo deltoide, tante volte per la nostra anatomia, per la nostra conformazione del muscolo e delle nostre ossea quel muscolo non si sviluppa tantissimo, è difficile, bisogna fare tanto il presvanca come le flessioni eccetera e purtroppo questo muscolo a volte come dico non si sviluppa e quindi non dà quelle spalle un pochettino più grande, più tonde, più riempite che a tanti maschi piace e che piace quasi a tutti perché è la forma armoniosa dell'uomo che ti fa bene tanto se sei spogliato come se indossi una giacca o se indossi una t-shirt o qualsiasi cosa. Per soluzionare questo problema si possono utilizzare due tecniche. Si possono riempire la zona delle spalle con il lipofilin, il lipofilin è una tecnica completamente naturale nel senso non si utilizza nessun prodotto chimico, si utilizza il proprio grasso, il proprio adipe della persona. Si fa una liposuzione nella zona dell'addome, delle cosce, dei fianchi, di solito gli uomini abbiamo sempre un pochettino di adipe, un pochettino di grasso sempre nei fianchi, nella zona lombare, dietro la schiena, nella parte bassa della schiena, utilizzando quell'adipe, quel grasso, viene centrifugato, viene processato per poi essere iniettato nella zona delle spalle e così conformare, creare una spalla molto più tonda e molto più larga come è tipica negli uomini palestrati. Nel caso degli uomini che non hanno grasso, che hanno poco grasso, che non si possono ottenere un riempimento sufficiente utilizzando il grasso che hanno nel resto del corpo, come dicevo, addome, fianchi, lombari, lì dobbiamo utilizzare un'altra soluzione. La soluzione che utilizzo molto frequentemente è l'acido ialuronico. Sempre un acido ialuronico molto più denso, molto più duro, più estrono, diverso da quello che si utilizza per esempio fare la medicina estetica del viso, che è un acido ialuronico molto più soft, molto più leggero. In questo caso si utilizza un acido ialuronico, come dico, che è molto denso e che dura più tempo, si riassorbe più lentamente. Il processo di ricreare quelle spalle più larghe, più tonde, più palestrate, sia con la tecnica del lipofilling, sia con la tecnica dell'acido ialuronico, è molto simile. Solamente cambia il processo di ottenzione della materia, del prodotto che utilizzeremo per creare il riempimento. Con il lipofilling, come dicevo, si fa una piccola liposuzione in anestesia locale e poi il grasso viene processato, immediatamente viene iniettato. Con l'acido ialuronico tutto questo processo viene fatto in fabbrica e quindi l'azienda farmaceutica ci dà l'acido ialuronico pronto per essere iniettato. Dopodiché, tanto il grasso come l'acido ialuronico hanno la stessa tecnica di iniezione. Si prende la siringa, col grasso o con l'acido ialuronico, con una piccola canula, la canula è un ago smuso, senza punta, più lungo, più corto, e si crea un piccolo forelino nella zona sotto la spalla o nella zona anteriore o nella zona posteriore, in base alla zona dove vogliamo riempire quello che vogliamo creare, quell'effetto che vogliamo disegnare. E lì, facendo un piccolo forelino, si introduce la canula e si comincia a distribuire, a rilasciare il grasso o si rilascia l'acido ialuronico. Nel caso del grasso, dell'ipofilin, è una tecnica che, quando si inietta il grasso, un 10 verso un 30% fino a un 30% si riassorverà e quindi si perderà volume. Pertanto, quello che si fa durante la chirurgia è iniettare un pochettino di più, essendo consapevole che un pochettino si riassorverà. Quindi, sempre, si essagliera un po' nell'effetto iniziale per ottenere poi un effetto, quello che realmente si vuole. Una volta che il grasso è stato iniettato, che il grasso rimane lì, rimarrà per tutta la vita. Solamente cambierà che, quando il paziente dimagrisce, ingrasa, dimagrisce, ingrasa, tanto il grasso di tutto il resto del corpo, come quello che è stato iniettato nelle spalle, ingraserà o dimagrirà uguale del resto del corpo. L'acido ialuronico, invece, non si comporta così. L'acido ialuronico, quello che inietto, è quello che è. All'inizio si può gonfiare un pochettino perché l'acido ialuronico è una molecola che tende a richiamare un po' di acqua. Quindi può succedere che i primi giorni, la prima settimana, due settimane, ci sia un piccolo gonfiore della zona. Poi si avassa questo gonfiore e rimane l'acido ialuronico. Di solito rimane tra otto mesi, dieci mesi. Quello dipende anche dell'attività fisica della persona. Se la persona, una persona che non si muove, che non fa tanta attività fisica, l'acido ialuronico rimane più tempo. Invece, se una persona che fa tanta palestra, spingendo col muscolo l'acido ialuronico, può succedere che si riassorba prima e quindi dopo sei mesi si deve fare un ritocchino, un nuovo riempimento. Quello che succede nelle persone che non hanno tanto grasso, che fanno il riempimento con l'acido ialuronico, è che ogni sei, sette mesi si fa un piccolo ritocco, un piccolo riempimento. Se, per esempio, all'inizio si è riempito con 100 cc e 100 cc ogni lato, non vuol dire che dopo sei mesi si debba riempire con 100 e 100. Sempre rimane un pochettino di acido ialuronico, quindi forse riempiamo con 50-60 in ogni lato. Con la tecnica del grasso, del lipofilin, si può fare diverse volte nella vita, ma come dico, se il grasso si inesta, rimane, non si riassorbe, quel grasso rimarrà a vita e quindi la persona sempre avrà quella forma tonda e quelle spalle larghe, palestrate, che è quello che cerchiamo con la tecnica del lipofilin o con la tecnica del riempimento con acido ialuronico. Grazie a tutti.